Bene, eccoci live. Buonasera a tutti, io sono Roberto Reale, Presidente Eutopian. Buonasera. Buonasera a Flavia Marzano, Vice Presidente Eutopian, Vice Presidente Roma Startup. E come si evince anche dalla sua descrizione su LinkedIn, dove non ha voluto specificare invece Vice Presidente Eutopian. No, dici che non c'è. Mi sa che c'è, adesso se c'è però ti meno, guarda controllo, sei sicuro che non c'è? Bene, la tagline no, perché probabilmente puoi metterne ora. Comunque, scherzo, veramente grazie a Flavia di essere qui stasera. Abbiamo pensato in occasione del Safe Internet Day 2021 di così dialogare, di organizzare un piccolo dibattito a più voci. sui temi della sicurezza e della consapevolezza quando si naviga sul web. Abbiamo anche qualche altro ospite, per esempio abbiamo Alessio Penasilico, che si è connesso in questo momento, ma che non vediamo neppure. Eccolo, eccolo. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Alessio. Ciao Alessio, come stai? Avanti. Avanti, così si fa. Ci pensavo poco fa, e Roberto non lo sa, io e te ci siamo conosciuti, te lo ricordi? Mamma mia, mi chiedi uno sforzo mentale in questo momento enorme. La bellezza di undici anni fa in Kosovo. In Kosovo, benissimo, aprissimo, aprissimo, è vero, è vero. Ha una conferenza sull'open source. Quanto mi invidio, io ho il Kosovo, che è l'unico stato dei Balcani che non ho visto, che non ho mai purtroppo messo piede. Ok, ed è stata una bellissima conferenza, tra l'altro è stata una conferenza sull'open source in Kosovo, che avevo aiutato a far nascere, perché per contatti LinkedIn mi avevano contattato, gli avevo portato un po' di persone, detto anche come si fa una call for paper, perché non avevo la propria idea. Erano tutti ragazzi giovanissimi, che era una meraviglia, ma 16 anni, giovani davvero, intendo. E nel decennale ci sono tornata, dopo dieci anni, perché poi l'hanno fatta tutti gli anni, e nel decennale ci sono tornata, e questo arriva uno di questi ragazzi che, insomma, io non sono una bimbetta, come vedete, e soprattutto non ho la stazza di un personaggio forte, uno di questi ragazzi che dopo dieci anni mi corre incontro e mi salta in braccio, che per non cadere ho fatto una fatica incredibile, ma è stata una meraviglia. Quindi a causa di internet hai rischiato di farti male fisicamente. Esattamente. È stata una bellissima cosa, vedere questi ragazzi cresciuti, ma ancora con il loro fortissimo commitment in quel campo. Ecco Arturo. Bene. Ciao. Buonasera Arturo. Ciao, mi vedi? Non ti vediamo ancora, ma ti sentiamo. Ecco, no, perché mi preoccupava che mi avesse visto. Io ho il video oscurato. Eccoci qua, giustamente. Il Nemo che mi vedeste pure col video oscurato. No, no, no. Come va? Bene, bene, bene. Pronti? Pronti. Adesso è una clubhouse in video, praticamente. Sì, sì, esatto, esatto, esatto. Molto, molto informale. Molto di moda. Molto. Quindi abbiamo presentato prima noi due. Abbiamo anche stasera Alessio Pena Filico, che è un advisor. Io e Alessio Pena Filico ci conosciamo da prima che tu nascessi, Roberto. Ti allargai? Ci sono... Roberto ha 30 anni. Io e Alessio ci conosciamo da 30 anni. Ma magari, che 30 anni? 30 no, ma 20 sì, dai, 20 sì. Scusa, Alessio, ma tu quale BBS gestivi? Io non gestivo BBS, non ho partecipato su nessuno dei due lati al crackdown italiano, quindi ho cominciato ad apparire nel 95-96. Prima mi collegavo le BBS della zona di Verona con mio padre che mi seguiva con la bolletta della SIP in mano, urlando che non succeda mai più una cosa del genere. Fantastico. Io mi ricordo che tu avevi una BBS o facevi qualcosa del genere. Partecipavo, partecipavo a diverse BBS, ma non ne gestivo una. Non capito, vabbè. Comunque ci conosciamo da quegli anni là, capito Roberto? Cioè io e Alessio usavamo le BBS, il balding board system. Mi fai sentire vecchio Arturo. Andavamo a 2400 baud al secondo. Quando andava bene. Io ho programmato il portran all'università con schede perforate. Torniamo a parlare di Clubhouse, fatemi tornare giovane, dai. Non fatemi parlare di queste cose sepolte nella memoria. Vabbè, vado via, ho capito. Sono vecchissima da buttare. Cioè, lasciamo stare. E non l'ho presentato invece Arturo, io presento gli ospiti perché a differenza di Clubhouse c'è probabilmente qualcuno che, spero insomma, qualcuno che ci ascolta anche, diciamo, dallo stremi. Arturo Di Corinto è un giornalista, docente universitario, notissimo anche opinionista su tutti i temi. Notissimo comunista, cosa hai detto? No, anche quello, insomma. Bene, appunto un po' lo scopo stasera è di fare un po' la chiacchierata così molto informale più che sui rischi, sulla necessità di appunto acquisire un po' una consapevolezza quando si naviga. Noi probabilmente un minimo ce l'abbiamo, però credo sia importante che la consapevolezza diventi parte del bagaglio, così, di cultura di base di chiunque. Abbiamo visto qualche giorno fa un po' lo scivolone sul presunto, diciamo, sulla presunta comunicazione di Enel e invece era un caso molto, molto così eclatante. e anche abbastanza di fischi, però senza voler così sparare sulla croce rossa, come possiamo difenderti? Come possiamo imparare a difenderti? Perché nello stesso momento, nello stesso giorno in cui appunto su Repubblica, moltissimo opinionista, così, cascava un po'. Puoi dire pure nome e cognome, non succede niente. Vabbè, ma non voglio prendermela con... Sappiamo che non ha intenzioni cattive. Ma secondo me, posso dire, una cattiveria io invece dura? Il problema, lui ha una certa, come si dice a Roma, non è proprio un ragazzino, avrebbe forse potuto saperlo, ma succede. Ma c'ha una Repubblica, è un editore che dovrebbe in qualche modo controllare... Guarda, lì possono essere successe, se posso, provo a dirvi io perché è successa quella cosa a Corrado Augas. Ci sono vari motivi. Il primo è che tutti quanti noi stiamo lavorando da casa. Anche a Repubblica i giornalisti stanno nel smart working, c'è un piccolo presidio che si reca fisicamente presso la sede del giornale, però la maggior parte delle persone fa un lavoro di analisi, valutazione dei pezzi, studia la gerarchia dei pezzi, verifica le fonti, chiama i testimoni, legge documenti in pochissimo tempo, di corsa, magari mentre i ragazzini gli corrono dietro la sedia e così via. Insomma, è la situazione dello smart working un po' di tutti. Quindi io penso che quello possa avere contribuito ad allentare i controlli su quello che Augas ha scritto, anche perché giustamente è considerato, o almeno io lo considero un grande maestro, un grande intellettuale, quindi se tu non sei più che certo dell'errore che avresti individuato in uno scritto di Augas, probabilmente stai zitto e lasci perdere. Questo potrebbe essere un secondo motivo, potrebbe essere che semplicemente quello che gli ha preso il pezzo, gliel'ha passato, semplicemente ci sarebbe cascato pure lui in quel tempo. Eh bravo, secondo me Arturo stai puntando il dito contro l'elemento chiave. Esatto. Io la vedo come una cartina al tornasole eccezionale dello stato di consapevolezza circa queste truffe, frodi, chiamiamole come vogliamo, di chi non si occupa di questi temi. Esatto, esatto, esatto. Che però, insomma, fa un po' a botte con la consapevolezza che quando sei dentro un giornale più o meno sai che si scrive di certe cose e perlomeno un'idea generica di quelle cose ce l'hai. Quindi io penso che sia stato un po' la fretta nel rileggere quel pezzo da mettere subito in pagina, probabilmente da copia incollare quasi, perché insomma Augeas è Augeas ed è successa la frittata, capito? Cioè è una svista che può capire a tutti. Il problema è che con i giornali e i giornalisti ti accorgi sempre di quando fanno qualche sciocchezza. Dello psichiatra che fa delle sciocchezze e che ti prescrive le medicine sbagliate. Non se ne accorge solo nessuno, solo la famiglia del matto, no? Quindi il tema è questo. Dopodiché questo non significa che anche Augeas non si debba occupare di queste cose. Anzi, soprattutto uno come lui che prova a ragionare sulle tematiche della modernità, rapportando la nostra storia, le nostre esperienze personali, con una grande varietà di riferimenti culturali, perché insomma è un'enciclopedia vivente anche Corrado Augeas, ecco, forse dovrebbe conoscere meglio quel mondo che però evidentemente fino ad ora non è stato così interessante per lui, no? Invece la nostra, la mia posizione, penso che anche la vostra posizione, è che oggi non si può più essere a digiuno di sicurezza informatica. Cioè, come se tu vuoi conoscere quello che c'è sui giornali, devi imparare a leggere. Vuoi usare internet, devi imparare a usare internet e a fare attenzione ai trabocchetti che ti pone, punto. Cioè, questa è la mia posizione. Ma è un po' come le strisce pedonale. Io non posso immaginare di vivere senza sapere che devo attraversare la strada sulle strisce pedonale e non devo attraversare la propria delle strisce pedonale, perché divento una costituzione di sopravvivenza, no? Però il punto è quello che a te, cioè tuo padre ti ha insegnato da bambino, probabilmente, che si aspetta che il semaforo rosso diventa verde per il pedone, che si guarda a destra e a sinistra, che si attraversa solo sulle strisce. Ma questo l'ha insegnato tuo padre perché tuo padre lo sapeva. Eh, capito. E se tuo padre invece di cyber security non capisce niente, come fa? Esatto, esatto. Se gli adulti non ne sanno niente, che poi è tutto lì la discussione di questi giorni sul tema delle piattaforme, di come trattano i dati, dei bambini che sono affidati a queste, come si chiamano, a queste nannis, a queste babysitter digitali, chiamiamole così, e poi succedono anche i guai, che poi dobbiamo vedere se vengono proprio da lì i guai. Ecco, però è possibile che l'orco cattivo, o comunque l'esempio sbagliato, possa venire dall'uso di queste piattaforme su cui i ragazzini passano ormai l'80% del loro tempo e che i genitori non conoscono. Capito, Alessio? Cioè, il problema... No, mi è molto chiaro, mi è molto chiaro. Io faccio molto spesso l'esempio dell'automobile. Una cosa che io racconto spessissimo è i viaggi della speranza che facevamo con i miei genitori per andare da mia sorella a Roma negli anni, nei primi anni 80, no? Con un'automobile che oggi riterremmo mortale perché no ABS, no cinture, io senza seggiolino, si viaggiava di notte per fare gli appennini col fresco perché non c'era l'aria condizionata, i miei genitori che fumavano in macchina con me dentro, c'è roba che oggi ci farà privivire, no? Però non è che i miei genitori fossero stupidi o cattivi, era la sensibilità dell'epoca. Ecco, in un mercato come quello dell'automobile che ha più di 100 anni di storia alle spalle, ci abbiamo messo 40 anni a rabbrividire a fronte del mio racconto. Quando invece non abbiamo in tasca lo smartphone da neanche 10 anni e dovremmo raggiungere lo stesso livello di consapevolezza e rabbrividire nel raccontare come usavamo le app l'anno scorso o ieri. Quindi c'è un problema di fondo, evidentemente. Però me la fate fare una domanda. La proposta, la soluzione a lungo termine, sicuramente non a breve, ma che cosa possiamo proporre a chi? Perché piano piano si evolva verso quello che abbiamo detto. Cioè, come prima c'erano i genitori che sapevano insegnarti ad attraversare la strada, adesso ci devono essere i genitori e magari le maestre. Io mi faccio forte di una cosa che abbiamo portato come Clusit al Senato in Commissione Difesa dove ci hanno chiesto una serie di visioni barra proposte e una di quelle sulle quali ho assistito molto io è ma così come per la mia generazione è stato ritenuto necessario fare la pubblicità progresso in televisione dopo il telegiornale per dire evitiamo le stragi del sabato sera così oggi è imprensabile che tutto quello che è formazione sulla cyber security venga interamente ed esclusivamente demandato a quei pochi volontari pulizia compresa che vanno nelle scuole però non è che possono fare un corso strutturato per passare informazioni e assolutamente sì in televisione, in radio sulle testate nazionali non lo so, non so neanche se la televisione sarebbe il canale corretto oggi però ecco, magari per raggiungere i genitori di quei ragazzi sì sono un po' più perplesso su altri interventi tipo sempre con la patente abbiamo mi piacciono come vedete i paragoni automobilistici abbiamo fatto la patente a punti non so se farei la patente per internet o altre proposte che sono girate in questi anni beh ci sarebbe c'è le cdl vogliamo parlarne ma non sempre quella ti insegna a usare Word ed Excel esatto esatto e qui bisogna insegnare una cosa diversa non è saper fare una macro bisogna insegnare che se tu ti fermi in autogrill e c'è quello che fa il gioco delle tre carte quello che vince è il complice è una cosa diversa finché rispondiamo alla principessa della Nigeria che ci promette l'eredità dove vogliamo andare ma io vorrei fare un passo oltre perché il punto è che la conoscenza noi parliamo di conoscenza di cyber security ma secondo me dovremmo chiamare la conoscenza proprio delle di certe nozioni spicciole che però è del tutto assente come noi siamo in una situazione in cui c'è una tabula rasa assoluta e vogliamo arrivare a una situazione in cui che sia un minimo così diciamo di cultura rifusa su certi temi allora qui vorrei fare una domanda provocatoria ad Arturo che non è un informatico ma è molto vicino al mondo dell'informatica e peraltro direi che si intende parecchio di comunicazione io ho uno degli indici che punto in maniera forte in questi anni è proprio verso noi informatici che abbiamo detto le cose sbagliate e non applicabili per anni scusate mi escono le parolacce quando mi arrabbio che cosa vuol dire non aprire le mail sospette cioè lavoro all'ufficio posta di un'azienda mi arriva la mail dello spedizioniere che faccio non clicco lavoro in contabilità mi arriva la fattura che faccio non clicco secondo me c'è stata una mancanza fortissima di dare delle istruzioni un po' meno banalotte del non aprire le mail sospette o quelle che vengono dagli sconosciuti io lavoro con gli sconosciuti quotidianamente io le devo aprire le mail degli sconosciuti cosa ne pensi Arturo dovremmo dire qualcosa di diverso guarda allora oggi la la polizia di stato ha diffuso un dato secondo cui il 77% dei giovani ha dichiarato di aver subito una molestia di aver vissuto un problema di essere stato vittima di un qualche tipo di reato commesso online uno studio di Kaspersky Kaspersky è una delle più grandi aziende di sicurezza informatica al mondo è la quarta o la quinta credo russa Kaspersky dice che nell'ultimo studio che ha fatto dice che il 46% dei giovani scusate il 49% dei giovani intervistati in una larga indagine statistica ritiene di essere troppo noioso perché qualcuno anche un delinquente si occupi di lui ok cioè il 49% la metà dei ragazzi intervistati in questa service scusate non mi ricordo il numero esatto di intervistati dice che ma io non sono interessante perché dovrebbero venire perché dovrebbero entrarmi nel computer perché dovrebbero entrarmi nel tablet nel telefonino quindi questi due elementi insieme secondo me ci fanno capire che in realtà il problema esiste ed è gigantesco però c'è un problema di inconsapevolezza che è molto più grande perché guardate io faccio una trasmissione a Rai 1 che si chiama Codice insieme a Barbara Carfagna lei è l'autrice principale io sono il coautore però faccio anche il presentatore faccio l'inviato eccetera di queste tematiche ne abbiamo parlato tante volte è un programma che va sul Rai 1 cioè per farvi capire la scala un programma che va un programma culturale di quelli che vanno in onda sulla Rai alle 11 mezzanotte fa un milione di spettatori che stanno un'ora davanti alla televisione non 5 minuti a vedere il video di Di Maio o di Virginia Raggi o di Lady Gaga su YouTube ok stanno un'ora allora lo stesso sempre in Rai abbiamo fatto io faccio un altro programma che si chiama Risposte Snack ci siamo inventati questo programma con Caterina Stagno la figlia del famoso giornalista Tito Stagno non so se ricordate quello che ha annunciato lo sbarco sulla luna Caterina Stagno questa direttrice bravissima che è responsabile del progetto di inclusione digitale della Rai con Caterina Stagno abbiamo fatto un programma che si chiama Risposte Snack cioè io mi sono immaginato di stare dalla parte di un ragazzino o di una ragazzina che vuole sapere di più sulla tecnologia che usa ogni giorno e quindi io ho immaginato di rispondere alle loro domande su che cos'è una password come faccio a evitare come faccio a non essere vittima di cyberbullismo posso mandare la mia carta di identità via Whatsapp e così via e questo programma è andato in onda è andato in onda sulle reti della Rai non è andato in onda sulle reti ammiraglie però è andato in onda su Rai Scuola Rai Cultura e così via e ogni pillola snack di un minuto perché io rispondevo in un minuto a queste domande dei giovani queste risposte snack erano una sessantina erano poche andavano dentro i programmi anche i contenitori di programmi importanti insomma i giornali quotidiani ospitano giornalmente il racconto di vicende di cronaca legate agli attacchi di phishing agli attacchi ransom agli attacchi di DOS e così via poi ci sono tutta una serie di giornali specializzati che se ne occupano ci sono le newsletter c'è la newsletter della mia amica Carola Frediani c'è la newsletter del mio amico Antonio Dini c'è la newsletter di Luca Sambucci adesso ci sono anche le stanze di Clubhouse dove si parla di cyber security in tre persone beato loro che hanno tutto questo tempo per chiacchierare ma di parlare di queste cose se ne parla il punto è che tu non riesci a raggiungere una massa sufficiente di persone ma guardate che in Italia ci sono circa centocinquanta piccole e medie imprese che fanno cyber security che fanno sicurezza informatica quindi si occupano sia della minaccia che arriva via mail che dell'attacco al sito web che viene fatto con una botnet per un denial of service attacco quindi c'è consapevolezza c'è un mercato ci sono delle aziende che investono la comunicazione su queste cose esiste però non basta perché non basta perché siamo abituati a barattare delle piccole comodità con i nostri dati personali perché siamo abituati a non occuparci di quello che ci serve per difenderci perché pensiamo sempre che interverrà qualcun altro perché abbiamo fiducia nei servizi che usiamo sia noi i servizi di mail che i servizi di messaggistica che i servizi dei social network e così via e soprattutto perché non abbiamo ancora insegnato ai più giovani a fare attenzione a dare valore a quello che fanno online a dare valore ai loro dati alle informazioni che producono ai comportamenti che agiscono in rete allora se noi non interveniamo su questo Flavia mi pare che prima lo dicesse se noi interveniamo sulla cultura in generale se non facciamo cultura su questi temi perciò è importante anche un incontro come questo stasera fra quattro amici al bar se non facciamo cultura su questo saremo sempre indietro ma infatti io un po' di pillole vorrei poter regalare visto che poi questa siamo in diretta ma ci sarà anche un video se avete voglia a pillole regalare qualcosa cose anche banali perché voglio dire è vero va bene però volevo solo aggiungere una cosa una cosa banale che perché non c'è l'attenzione perché è solo mezzo vero quello che tu dici la gente sta attenta ad alcune cose le chiavi di casa non le lasci fuori dalla porta perché invece lasci la password sul tuo computer la porta di casa non la lasci aperta perché non metti lo screensaver quando ti alzi e te ne vai in un ufficio dove passano decine di persone sembrano banalità non metteresti mai una foto sapendo che la può vedere la tua mamma perché insomma è meglio di no e la metti su facebook perché la tua mamma non c'è e insomma ecco forse qualche pillola vai Arturo intanto questi comportamenti ci sono perché c'è una resistenza psicologica all'idea che qualcuno ci possa fare del male quando siamo online non ci vogliamo credere perché è il luogo dove ci esprimiamo dove balliamo danziamo chiediamo i like condividiamo le emozioni i sentimenti ci raccontiamo è il palcoscenico dal quale ci rivolgiamo al mondo con cui facciamo amicizia con cui manteniamo i contatti affettivi e così via ma c'è una resistenza psicologica ad accettare l'idea che noi veniamo manipolati che i nostri comportamenti sono manipolati sono manipolati attraverso quella che si chiama sorveglianza commerciale e sono manipolati attraverso le stimolazioni di carattere politico che fanno uso ad esempio delle campagne di disinformazione e delle fake news va bene cioè c'è una resistenza molto forte oggi come oggi noi dovremmo essere dovremmo tutti quanti abbandonare facebook ad esempio perché ormai sappiamo a che cosa è servita è servita ai Tories e a Bannon a vincere con la Brexit a far vincere Nigel Farage con la Brexit e a mettere nei guai gli inglesi in questi giorni sappiamo che facebook e con Cambridge è servita a fare vincere Trump nel 2016 perché? perché grazie a facebook hanno sono riusciti a sopprimere il voto afroamericano a favore di Hillary Clinton nei tre stati nei tre swing state nei tre stati in milico ok? cioè sapendo queste cose qui che è stato possibile manipolare il comportamento elettorale facebook andrebbe chiusa beh basta ma senza discorso non mi venite non mi venite a raccontare le stupidaggini no ma io ci sto perché c'ho gli amici perché c'ho il bis no la dovete abbandonare delete facebook chiuso basta questo è un motivo vale però per tanti mesi questo è un motivo ma facebook lo dovete chiudere facebook va chiuso facebook va chiuso non si può fare altro poi sugli altri ragioniamo state su clubhouse siete degli imbecilli perché perché non avete letto i toss non avete letto i termini di servizio perché vi contano pure quanti peli ci avete in testa va bene non ci dovete stare su clubhouse manco clubhouse capito? scusa Arturo questo è chiaramente la possibilità di usare uno strumento di comunicazione per manipolare un pubblico e c'è sempre dalla televisione ogni forma di comunicazione è una forma di persuasione l'ha detto prima Pernasilico non dici tu non sei un informatico ecco bravo non sono informatico sono un esperto di comunicazione sono un professore di comunicazione ok soprattutto sono uno specialista della persuasione tecnologica ok allora ti lo dico subito ogni sistema di comunicazione è un sistema di persuasione la comunicazione serve a fare questo serve a cambiare il mindset del ricevente serve a cambiare il framework concettuale entro cui agisce e interpreta il mondo il ricevente della comunicazione e a che cosa serve? serve a fargli fare quello che non farebbe di propria spontanea iniziativa va bene dall'alba della comunicazione che serviva per mettersi insieme andare a cacciare i mammut adesso serve a questo serve a far fare a te quello che io non faccio va bene questo te lo dico in maniera molto semplice non c'è dubbio la sorveglianza oggi come oggi i nostri comportamenti sono datificati cioè ogni comportamento che noi agiamo oggi al mondo è mediato da un software quando andiamo a ritirare i soldi al banco ma quando paghiamo al supermercato quando scarichiamo l'app per il cashback quando guardiamo la pay tv e così via va bene quando stiamo al telefonino quando usiamo zoom e compagnia bella tutti i nostri comportamenti sono mediati da un software il software fa una cosa molto semplice per trasmettere una comunicazione la registra allo stesso tempo ok e queste registrazioni sono basate possono essere raccolte in maniera scientifica per ricostruire il comportamento che c'è dietro all'uso di quel software ok quindi che cosa significa che il comportamento viene datificato una volta che il comportamento viene datificato se questi dati prodotti dal nostro comportamento non sono protetti rimangono in baglia di qualcuno che ci fa delle cose ad esempio li organizza per profilare la nostra persona una volta che si hanno abbastanza dati su una persona e si ha un profilo abbastanza accurato della persona gli si può offrire quello che la persona è propensa a desiderare va bene allora perché noi funzioniamo in base nei meccanismi psicologici antichi è come quando mi avvicino a te che ti tendo la mano sarà molto difficile che tu non me la dai perché un comportamento socialmente accettabile ed è antico è rooted dicono gli americani è radicato nei nostri comportamenti sociali lo stesso se io ti offro al supermercato se io ti offro di comprare la cacciotta a 20 euro e tu mi dici no non posso dici vabbè comprati mezza cacciotta a quel punto mezza cacciotta me la compro perché penso comunque di averti fatto contento di aver fatto un affare allora sono queste tecniche che sono inventate incorporate nella comunicazione perché posto posto che non possiamo abbandonare tutte le piattaforme perché stupidaggi ma che ci fai che ci fai tu devi leggere 100 pagine al giorno di un libro i libri servono a strutturare il pensiero lungo non le risposte da ameba capito non da cane pavloviano come fanno gli algoritmi che tu non conosci e che non padroneggi voi la faccia di Adessio la vedete che si diverte come un pazzo no non mi fatti fare un bolding che silenzio la scherzia parte fammi dire una cosa Roberto scusa che mi è venuta in mente Alessio non so se lo ricordi ma una volta tu facevi il relatore sulla cyber security e io ti davo la parola allora scena divertentissima una platea saranno state 200 persone lui prende il suo tablet lo apre il suo portatile lo apre e comincia a fare oddio dove l'ho messo dove l'ho messo non trovo più il post-it dove ho scritto la password del mio del mio portatile aspetta aspetta no Alessio e era perché ovviamente volevi dire brutti scemi non si fa così ma la platea non si è mostrato nessuno ha fatto una piega e ha detto scusate lui sarebbe un esperto di cyber security e vi sta dicendo che ha messo il post-it con la password ah non l'avevamo capito cioè tu li stavi prendendo in giro non mi ricordo se ci avevi fatto prendere un colpo mai scritto una password su un post-it giustamente no no non mi riconosco mi hai fatto morire da ridere quella volta vai vai dici qualcosa che tu tornando tornando a scuola mi sorridevo vai vai Roberto scusa giusto giusto per chiudere un attimo i discorsi io sono d'accordo con lui che le piattaforme servono per manipolare però sono anche penso anche che non sia sono allevamenti di consumatori penso anche che non sia possibile non sia possibile stepping out no uscire da tutte le piattaforme perché significa non avere per esempio tu sei presente su alcune piattaforme come Arturo sai su Twitter sai su LinkedIn perché comunque ci sei no non hai deciso così di abbandonare ma anche quelle sono piattaforme che ti profidano e che naturalmente possono anche Roberto Roberto movimentiamo fammi litigare con Arturo in maniera buon'aria perché poi se siamo tutti d'accordo allora è evidente che condivido con Arturo il pensiero circa il quanto possiamo essere profilati e come funzionano questi strumenti e come vengono usati per influenzarci totalmente sposo a una a una tutte le parole che ha detto però appunto è molto più divertente se parliamo delle cose su cui non siamo d'accordo io per esempio do il consiglio esattamente contrario appena un social supera un certo livello di visibilità iscrivetevi io oggi mi sono iscritto a Clubhouse perché perché su Clubhouse con la mia faccia e il mio nome ci sono io e non qualcun altro che si iscrive dicendo di essere me e parla con i miei amici è la pipì del cane virtuale che marca il territorio quindi io sono iscritto a Snapchat che credo abbia scambiato un messaggio della mia vita giusto per vedere come funzionava però comunque la mia faccia col mio nome sono io il tema della profilazione esiste e io me lo ricordo anche mentre sto usando il telepass mentre sto usando la carta di credito o mentre sto facendo la spesa perché comunque funziona anche in tutti quei contesti lo dicevi correttamente prima si tratta di uno scambio ci sono dei luoghi tipo LinkedIn dove io trovo che il trade off tra l'essere profilato e il vantaggio che ne ottengo sia sufficientemente sensato Clubhouse salvo per l'appunto provare a vedere com'è parlare con qualcuno due secondi temo che non lo userò molto però ecco la mia faccia il mio nome e la mia rete di amici è la mia e nessuno deve venire al mio posto ma io sono d'accordo anche con questo adesso perché secondo me uno deve essere nei luoghi deve capire come questi luoghi poi sono strutturali come funzionano deve capire la grammatica deve capire anche poi i rischi ovviamente connessi ma non tirarsi fuori semplicemente è un po' come scappare e per oggi mi collego scusami Roberto al tema della giornata di oggi perché secondo me Arturo ha toccato un punto fondamentale nello scenario che stava dipingendo che è quello della dimensione oggi si è parlato tantissimo di cyberbullismo però non è che il bullismo non sia mai esistito diteci noi che andavamo a scuola quando non c'era internet chi di noi non è stato preso in giro chi di noi non ha avuto qualche episodio spiacevole chi di noi non si è pigliato lo schiaffo dal compagno di classe non lo so adesso esagero però insomma fenomeni per certo non nuovi oggi quello che cambia è la dimensione un conto è che mi prendono in giro i miei compagni di classe per due giorni un conto è che 5000 sconosciuti mi bombardino il profilo è proprio una dimensione completamente diversa allora di quello che raccontava Arturo che spaventa anche me è evidentemente la dimensione anch'io porto spesso l'esempio di Cambridge analitica della Brexit e gli dicendo è assolutamente evidente l'operazione è fatta e quello che stupisce almeno me personalmente è che questo potere un po' si è spostato ma l'abbiamo visto nelle scorse settimane col caso GameStop e come è stata manipolata l'azione in borsa fino a vent'anni fa non è che queste cose non succedessero era un appannaggio di pochi su pochi strumenti oggi non voglio dire che è la portata di chiunque perché chiunque è forse una parola un po' forte però è diventato un pochino più democratico il poter sfruttare questa influenza contraddicimi Arturo litighiamo con te mai assolutamente no allora oggi è l'Internet Safer Day è una ricorrenza importante se c'è qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento gli possiamo dare cinque consigli la prima cosa che deve fare è cambiare la sua password cambiare la password creandone una lunga robusta e complessa come si crea una password efficiente non deve avere un significato non deve rimandare a a un nome conosciuto non deve essere il nome del vostro gatto non deve essere il nome del cane la data di nascita o di matrimonio dei vostri genitori deve essere superiore a otto caratteri e deve essere composta appunto da simboli alfanumerici affiancati in maniera creativa ci devono essere lettere minuscole lettere maiuscole segni di interpunzione caratteri speciali e ve la dovete ricordare chiaramente questa strategia che pure funziona poi ve ne posso dire altre non è sempre sufficiente perché si è calcolato che tutti quanti noi abbiamo almeno 11 password diverse per accedere a 11 servizi diversi ricordarsi 11 password diverse fatte in maniera creativa diciamo a prova quasi a prova di delinquente è molto difficile perciò le persone tendono a scriversele su un foglietto nel diario o nel computer in realtà il diario può essere perduto e qualcuno può scoprire quelle password e se le teniamo nel computer una volta che un delinquente ci si intrufola le perdiamo comunque quindi una soluzione è quella di usare dei software che si chiamano password manager che si comprano per pochi soldi anche per un euro al mese che funzionano come una cassaforte ci sono anche scusa Arturo ci sono anche quelli che non che non si pagano quelli open source e i gratuiti ad esempio keypass possiamo dirlo tu che sei un che sei un sì sì io io sono dell'idea che che è sempre bene pagare i servizi soprattutto se sono servizi creati da una comunità di interesse che possono finanziare il carattere etico dell'iniziativa che ci sta dietro per capirci ad esempio io come strumento di posta elettronica uso ProtonMail ProtonMail è un tipo di posta elettronica crettografata creata da un gruppo di scienziati del CERN di Ginevra il CERN di Ginevra è il posto dove è stato inventato il web da Sir Tim Berners-Lee e Robert Caillot ProtonMail ti dà gratuitamente il primo indirizzo di posta che scegli se ne vuoi due lo devi pagare 4 euro al mese ecco io preferisco pagare quell'iniziativa perché le leggi sulla privacy svizzera sono abbastanza buone le leggi sulla protezione dei dati personali sono abbastanza buone i server di ProtonMail stanno sotto la roccia proprio sotto le Alpi stanno e le persone che ci lavorano sono tutti scienziati che come modello di business hanno le donazioni e non la monetizzazione dei nostri dati ed è la stessa cosa che succede con Signal che è una app un applicativo software che si può scaricare sia per Android che per iOS per il sistema operativo di Apple e Signal pure dietro ha una fondazione fondazione creata da un gruppetto di anarchici seguaci dell'open source e così via in particolare da Moxi Marlin Spike ed altre persone ecco pure lì Signal è gratuito io non lo pago però faccio delle donazioni alla fondazione preferisco non avere solo cose gratuite ma sul fatto che sono disponibili software open source per fare maggiore diciamo che questa dovrebbe essere la logica di quando facciamo un discorso sulla sicurezza e sulla privacy l'open source dovrebbe essere la base di ogni ragionamento nel senso che l'open source ha affermato la logica dell'open source il movimento open source nel mondo ha affermato una logica che è condivisibile molto facilmente da chiunque cioè della sicurezza attraverso la trasparenza cioè siccome siamo in tanti a sapere come funziona quel software il software è difficile che farà delle cose strane di nascosto contro di te che è quello che succede con il software proprietario anche se qualche controesempio c'è stato pensiamo a amico mio ci sono pure i carabinieri che violentano le studentesse americane torniamo le password torniamo le password che se no ci infiliamo su un discorso filosofico enorme che da ex presidente di un linux user group e da ex membro del comitato direttivo dell'italian linux society ci credo molto ci credo anch'io ci credo anch'io adesso io ho anche sviluppato anche delle patch poi accettate ma fatemi però voglio appunto evitare fatemi tornare fatemi tornare le password che è un argomento molto caro quindi dicevamo posso integrare quello che stai dicendo sulle password perché è una cosa importantissima ma vorrei aggiungerci un bit allora i password manager sono d'accordo sono favolosi hanno un problema che se ti bucano il password manager ti hanno rubato il foglietto di carta virtuale dentro il quale ci sono scritte tutte le cose ora io su questo mi sentirei di dare due consigli il primo quella che viene chiamata autenticazione due fattori strong adesso la trovate ci stavo arrivando sì 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 ormai è gratuita su tutti i principali servizi Arturo adesso si tappa le orecchie un secondo la trovate su gratuitamente su Amazon su Facebook su Twitter su LinkedIn la trovate da per tu su Gmail da per tutto è obbligatoria per le banche è obbligatoria per le app bancarie certo detto che significa che per entrare oltre a una mutente la password dovete mettere un codicino che arriva via SMS piuttosto che un codicino che vi dà un'applicazione installata sul telefono che cambia continuamente ma tornando alle password statiche fatte sacrosante le regole che ha detto Arturo il problema è che diventano molto difficili da applicare quotidianamente come diceva immaginate di avere 11 password fatte con quella logica che non volete scrivere da nessuna parte ve le volete ricordare diventa molto difficile allora per un computer calcolare una password per quanto complessa di 8 caratteri 9-10 è molto più semplice 50 minuti 50 minuti è molto più semplice che non indovinare una password molto più lunga a parità di complessità allora voi dovete fare il gioco che conviene a voi e non al computer vale a dire ci sono delle cose che voi a memoria le sapete già voi non dovete imparare le password voi a mio parere poi fate come volete dovete ricordarvi l'algoritmo con il quale calcolate le password vi faccio un esempio io a 40 anni suonati ho ancora l'incubo della mia maestra degli elementari che mi costringeva a fare una cosa che io odiavo imparare a memoria le poesie settembre andiamo è tempo di migrare i miei pastori in terra d'Abruzzo me la ricordo ancora settembre andiamo è tempo di migrare con gli spazi con la prima lettera maiuscola di ogni parola ci mettete in fondo l'anno scorso l'anno prossimo ci mettete un punto esclamativo ci mettete una virgola diventa una password che voi ve la ricordate già ed è adattissima a non essere indovinata da un computer se la sapete tutta la poesia voi vi inventate un algoritmo prima riga è la mia password di facebook seconda di twitter terza di linkedin tra un mese cambio poesia ne so un'altra tra due mesi scelgo un'altra poesia non sapete le poesie siete dei fan di Vasco Rossi respiri piano per non far rumore va benissimo come password non sapete non sapete né canzoni prendete l'Ulisse di Joyce ve lo salvate in pdf sul desktop e scegliete una pagina dispari ogni due mesi avete password per il resto della vostra vita e se vi bucano un computer come diceva Arturo prima se qualcuno si intrufola non trova password.doc con tutte le password scritte trova l'Ulisse di Joyce e sapete voi che quel mese lì è pagina 571 riga 1 password di facebook riga 2 password di twitter riga 3 password di linkedin e voi vi ricordate una cosa semplice che declinate nel tempo mi sembra un ottimo metodo ottima idea in realtà uso lo stesso metodo con l'accortezza di un trucco che mi hanno insegnato i miei amici hacker che è di mettere davanti e dietro alla passphrase 4 numeri uguali 4 numeri prima e 4 numeri dopo che rende le cose un po' più complicate però questo mi sembra un bellissimo metodo quello che diceva adesso la seconda cosa da fare è fondamentalmente procurarsi un antivirus un antimalware e farlo girare subito appena usciamo dal negozio dove abbiamo comprato il nuovo smartphone il nuovo tablet il nuovo computer desktop e così via la terza cosa da fare è fare subito un backup dei dati dopo aver passato l'antivirus fare una copia dei dati tenerla in un hard disk che è disconnesso dalla rete internet magari nascosto in un posto che fisicamente è facilmente raggiungibile da voi ma non da chiunque quindi una copia dei dati è molto importante perché se state scrivendo la tesi oppure se state preparando il progetto della vostra vita se avete dei video delle foto particolarmente importanti è bene che se non riuscite più a raggiungerle se vanno perse eccetera le possiate recuperare in qualche modo poi l'ultima cosa da fare dopo la password l'antivirus e il backup è abituarsi proprio ad usare delle strategie di offuscamento ci sono molti servizi che noi utilizziamo quotidianamente per ottenere un qualche tipo di comunità per parlare con i nostri amici per chattare condividere foto scambiarsi i compiti eccetera eccetera ecco adottare delle strategie di offuscamento non c'è bisogno sulla maggior parte dei servizi di dare la propria identità anagrafica cioè non c'è bisogno di dire che ti chiami Arturo di Corinto che sei nato in quel posto in quell'anno eccetera eccetera cioè le piattaforme che offrono dei servizi gratuiti che si ripagano con la produzione di dati da parte nostra in particolare con la produzione di metadati che vengono utilizzati per la profilazione quindi per il marketing diretto queste piattaforme tollerano diciamo qualche errore qualche incertezza rispetto alla nostra identità anagrafica è vero anche che viviamo in una legislazione per cui non è obbligatorio presentare la carta di identità ovviamente ci si potrà arrivare a trovare un metodo di autenticazione che sia affidabile in caso questa in caso che serva a dei fini di carattere burocratico ok immagino se uno subisce una molestia oppure per beccare il delinquente che ha fatto una cosa che non doveva fare quindi ragionate su quello che si indica offuscamento e soprattutto quello che dice fate quello che diceva Alessio se mettete le foto dentro qualche canale privato di Telegram ecco assicuratevi che non siano le foto in cui avete degli atteggiamenti strani assicuratevi che non siano le foto dove state nudi perché guardate che la cosa di cui si parla oggi che noi prima abbiamo cominciato a parlare di Facebook che è un social network da vecchietti ok stiamo parlando di Clubhouse che è il nuovo hype senza motivo soltanto perché sono Elon Musk e Zuckerberg sopra francamente non vedo l'interesse per una cosa del genere ma è comunque una roba da vecchietti i ragazzi i ragazzi oggi usano Discord per comunicare o anche quello o anche quello usano Snapchat sembra giusto se devono mettere in scena il loro corpo le loro abilità ginniche il loro carattere erotico eccetera eccetera usano TikTok quindi sono altri i contesti e i canali dove si esercitano i giovani che possono rimanere vittima dell'orco cattivo ok e di questo si parla quando parliamo di Safer Internet Day fondamentalmente allora ricordiamocelo questo perché ripeto cioè Discord e tutti gli altri canali di chat delle console di videogame sono il canale principale di comunicazione dei giovani non usano è dato un sacco di input però mi permetto di integrarlo da tecni perché hai detto delle cose importantissime allora il backup che nominavi fondamentale fondamentale e ancora c'è pochissima gente che lo fa e torno al tema della consapevolezza mi è capitato io occupandomi di questi temi per lavoro ho molto più spesso a che fare con le aziende che non con i privati a me è capitato un imprenditore che mi ha detto ma fierissimo e anni che il mio tecnico mi propone di spendere qualche migliaio di euro per mettere in piedi un sistema di backup che funzioni ho sempre detto di no ho preso ho preso ransomware e pagando 400 euro me la sono cavata hai visto che sono stato più furbo io che me la sono cavata con 400 euro anziché qualche migliaio la prima volta la prima volta io in questi casi alzo le mani allora il tema del backup è andate in qualunque supermercato non serve neanche il negozio di elettronica comprate un maledetto hard disk lo attaccate fate backup qualunque sistema operativo usiate già previsto delle funzioni per farlo i cellulari pure salvate e staccatelo l'ha detto bene Arturo prima staccatelo se lo lasciate attaccato sempre è evidente un problema ci stiamo dicendo una cosa che ripetiamo da 25 anni almeno e bisogna ancora ripeterla perché ancora non abbiamo raggiunto un numero sufficiente di persone che lo fa nel modo corretto relativamente all'antivirus assolutamente sì e qui io credo che di nuovo ci sia un problema di percezione enorme e deriva proprio dal nome sbagliato che diamo agli oggetti di uso quotidiano se tu chiami questo oggetto qua smartphone io mutuo l'idea che sia il telefono della SIP che aveva la mia nonna quello con la rotella fatto un pochino più schiacciato e intelligente questo qui oggettivamente si dovrebbe chiamare idiot pc stupid pc questo qui è un computer molto piccolo con uno schermo molto piccolo la mia automobile dovrebbe essere wheel pc è un pc con le ruote il mio frigorifero il mio scaldabagno la mia televisione non è una smart tv maledizione è un pc molto piccolo con uno schermo molto grande e allora sì tutto quello che è collegato può essere infettato può essere attaccato la buona notizia è che può essere anche difeso però lo dobbiamo fare la buona notizia è che si può si può si deve dando input alle persone su come farlo quando farlo io sulla mia televisione ho installato l'antivirus anche perché banalmente io sulla mia televisione adesso Arturo di nuovo gli verrà la pelle d'oca ho fatto login su youtube per permettere a mia figlia di farsi la playlist e guardare i video che io le metto nelle playlist se qualcuno compromette la mia televisione e riesce a entrare in possesso del mio account gmail non è vero ma penso all'esempio comune con quell'account gmail sarà magari lo stesso con il quale ho fatto l'iscrizione ad amazon l'iscrizione a youtube l'iscrizione a facebook a twitter quindi un colpo solo della mia televisione ha preso possesso della mia identità online su n su n canali e quindi anche questo non va bene comunque Alessio io un giorno credo che verrò a parlare con tua figlia e le dirò attenta perché se il tuo papà ha configurato il tuo telefono sa sempre dove sei sai che invece assolutamente no mi spiace per lo spoiler ma ve lo faccio comunque c'è un bellissimo libro che vi consiglio di leggere probabilmente Arturo conosce anche l'autore Cory Dottor Wu che è un attivista per i diritti digitali statunitense quindi un informatico che scrive questo libro che è un po' la brutta coppia dello scrivano fiorentino ve lo ricordate del libro cuore c'è questo ragazzino un po' deviante che poi invece poi salta fuori alla fine che fa tutto per salvare la famiglia il padre e via dicendo però è un romanzo tecnologicamente corretto nel quale lui spinge un po' all'eccesso cose reali dice oggi noi ci preoccupiamo del riconoscimento facciale delle telecamere però guardate che non è l'unica cosa distintiva con il quale possiamo essere identificati per cui questo ragazzino frequenta una scuola per la quale gli studenti vengono identificati dal modo di camminare e allora se uno studente è fuori dall'aula durante la lezione scatta l'allarme allora lui si mette i sassi nella scarpa per camminare in un modo diverso e non essere riconosciuto ecco la morale molto bella del libro e che mi sento di condividere al genitore è che se io temo che mia figlia stia facendo qualcosa di sbagliato con gli strumenti tecnologici lo strumento per risolvere il problema non è lo strumento tecnologico è parlare con mia figlia io non installo un'app per sapere dov'è parlo con lei per sapere tu hai le competenze e la tua figlia vuoi del bene però attenzione perché per esempio uno delle ansie che mi è venuta nel mio lavoro precedente quando ero assessora a Roma avevo tra le altre la delega alle pari opportunità e un giorno sono stata a inaugurare una casa rifugio la casa rifugio ospita donne vittime di donne e figli minori vittime di violenza ora se l'uomo che non le deve rintracciare è un po' scafato le rintraccia perché ha trovato il modo di farlo quindi su questo tratto abbiamo scritto un manualetto che di poche pagine abbiamo aggiunto quelle quattro cose non fatele mai e quelle altre sette fatele sempre che è prezioso allora corretto ma è un problema diverso io sono molto preoccupato da questa tendenza di controllo dei figli il parental control d'accordo con te il allora quando io ero ragazzino non avevo lo smartphone però insomma non è che nonostante il divieto dei miei genitori non abbia mai visto un porno nella mia vita allora i ragazzi sono fatti per derogare derogare per violare le regole ma fa parte dell'autodeterminazione del carattere e dello smarcarsi la famiglia quindi permettini di dire pure sano allora il tema è come gliel'hai raccontato come gliel'hai spiegato cioè io preferisco che mia figlia sappia che è una cosa che io non voglio che lei faccia se lo deve fare lo deve fare di nascosto senza farsi beccare piuttosto che mettere il parente al controllo sono d'accordo è fuori da ogni ragionevolezza se io penso che mia moglie mi tradisca io non le vado a spiare le chat parlo con lei parlo con lei parlo con lei però che lo sia anche una questione di età no? Tua figlia quanti anni ha? pochi pochi però sai magari c'è proprio il tema dell'offuscamento di tribù sei un mito c'è il tema di appunto magari preservare delle fasce delle fasce orarie oppure evitare magari un uso eccessivo Roberto ma le regole le stesse regole che i miei genitori avevano a me non si guardano i cartoni animati dopo le nove della sera e non non mi mettevano il timer sulla televisione e se alle nove non spegnevano la televisione era un problema abitiamo nella stessa casa ci conosciamo possiamo anche rivolgerci la parola oltre che app quindi secondo me è questa cosa del controllo tecnologico ci sta sfuggendo un po' di mano io la leggevo però dall'altro parte dall'altro lato cioè contro una persona pericolosa che potrebbe controllare io mi devo poter difendere questa è l'idea e qui di nuovo ne faccio un tema di dialogo allora esistono gli addescatori su internet? sì esistono gli addescatori nei parchi? sì la prima che esistesse internet allora il problema è che io non devo insegnare a mia figlia come usare IRC vent'anni fa Facebook poi e TikTok oggi io le devo insegnare come non farsi addescare poi devo insegnarle che questa cosa può avvenire attraverso n vettori ed è chiaro che un vettore che ti espone potenzialmente a un milione di persone diverse che non hanno bisogno di raggiungerti fisicamente per fare qualcosa di malvagio richiede una spiegazione a sé e porta in pancia un rischio maggiore però di nuovo il mero divieto il mero allora tu non usi Facebook e lo userai sul cellulare di un'amica e troverai un modo di usare il mio controllo allora preferisco dare degli strumenti per usare la cosa nel modo corretto poi detto questo il cellulare se lo sogna fino a che io non riterrò che abbia l'età corretta per poter gestire lo strumento però ripeto esattamente come hanno fatto con me con la televisione col telefonino con la macchina col ma col coltello non ti hanno dato un coltello quando avevi tre anni ti hanno dato un cucchiaino prima e qui di nuovo sottolino la cosa importantissima che diceva Arturo prima io quando vado nelle scuole superiori per esempio a parlare con i ragazzi non ne faccio un tema di canale di strumento di che cosa ne faccio un tema del una volta che un'informazione digitale ne hai perso il controllo cioè io da esperto esperto di cyber security io non ritengo di essere in grado di garantire la riservatezza di quello che sta dentro il mio cellulare ragione per cui io ho foto di mia moglie e non ne ho ma non perché non mi faccia piacere averle perché ritengo di non saperne tutelare la riservatezza nel modo in cui vorrei in maniera assoluta per cui il tema è se quello che stai per scrivere su un canale in chat su un sms cazzo santo cielo non li usa più nessuno va bene anche l'sms se quello che stai per scrivere se la foto che stai per fare quello che stai per fare pensi che appeso fuori dalla chiesa la domenica mattina dove vanno ammessi i tuoi genitori e i loro amici ti darebbe fastidio non fare la foto non la fare secondo me adesso stiamo ragionando come appartenenti a una generazione che non è più quella di cui parliamo perché io oggi voglio usare immagina io voglio usare lo smartphone per non so magari anche per avere un dialogo o un rapporto con qualcuno voglio anche usarlo per comunicare delle informazioni che sono riservate e però voglio che raggiungano questa persona cosa faccio non lo uso è naturale in teoria dovresti prenderti un rischio calcolato il problema è che l'essere umano io sconto anche il fatto di avere una moglie psicologa che ogni tanto mi racconta delle cose l'essere umano è terribile nel fare l'analisi dei rischi basta che tu guardi i numeri che non c'entrano niente con la cyber security tu parli con la gente e ti dice che non porta la gomma di scorta in macchina perché tanto non serve e se guardi il numero di gente che circola per strada senza avere l'assicurazione della macchina fanno veramente paura allora l'essere umano non è in grado di fare l'analisi dei rischi si mettono la cintura non si mettono il casco eccetera eccetera e anche su questo guarda avrei tante cose a dire io trovo abarrante la legge sul mi fanno la multa se non mi metto la cintura ma santo cielo cioè io me la metto perché serve a me no? esatto ma di cosa come la mascherina Alessio però fino a ottobre facevano le manifestazioni contro l'uso della mascherina cioè io quelli li metterei tutti in galera uno per uno tanto sappiamo chi sono poi se mi permettete anche una battuta siamo anche atroci nello scegliere i nomi cioè quella roba di plastica che ti metti in testa e l'avrei chiamata proteggi testa salva cervello casco significa proprio tirarsela vero scegliamo anche i nomi sbagliati per gli oggetti però al netto delle facce le battute l'esigenza di scambiare alcune informazioni con gli altri c'è allora è evidente che magari con mia moglie mi prendo delle libertà e dieci anni fa mamma mia molti di più e quando ci siamo conosciuti dopo due mesi che ci frequentavamo magari non mi sarei preso c'è un tema di fiducia c'è un tema di il problema cos'è che a 14 anni il tuo fidanzato da due giorni è l'amore della tua vita col quale hai una cessione di fiducia enorme e gli mandi qualsiasi cosa e questo non va bene ma torniamo al tema di prima se io guardo i video su TikTok a me non scandalizzano le 13 anni con la panza fuori a me scandalizzano i video che fanno le mamme con i figli c'è della roba atroce vedevo l'altro giorno un video ve lo giuro mi ha detto mamma in primo piano mi ha detto il mio ginecologo che la pillola è efficace al 99% figlia di 10 anni che saltella dietro con la scrittina sopra un per cento allora se questo è il comportamento dei genitori stiamo ancora a parlare di educazione cioè abbiamo alla fine adesso per chiudere secondo me la parola chiama continua a essere consapevolezza io non voglio abbandonare gli strumenti come fai tu in modo sacrosanto voglio usarli anche tu e poi devo essere in grado di fare un minimo di calcolo quantomeno quantomeno ecco diciamo di base sui rischi che corrono perché poi potrei fare come dice Arturo abbandono abbandono Facebook abbandono TikTok abbandono Telegram non uso soltanto strumenti iper sicuri però peraltro hanno anche le loro vulnerabilità però secondo me questa non è la soluzione quantomeno non è una soluzione da aria scala guarda se mi permetti di nuovo l'esempio automobilistico perché essendo un oggetto del quale abbiamo maggiore esperienza secondo me funziona molto bene non fare un incidente in macchina è fatto di tante cose è fatto di competenza so che quello lì è il freno e quello lì è l'acceleratore so che col verde passo e col rosso mi fermo questa roba da sola evidentemente non basta a non fare un incidente ci sta anche un tema di esperienza addirittura con i problemi che porta con sé probabilmente il primo giorno che giravo con la macchina ero pericolosissimo per mancanza di esperienza oggi sono più pericoloso rispetto a quando giravo da tre mesi perché oggi ho un senso di controllo e padronanza del mezzo che mi porta ad un comportamento molto meno attento e poi c'è un tema per l'appunto di approccio di metodo sai che quell'incrocio è pericoloso è vero c'è la precedenza però l'occhio lo butti comunque se vedi quello che arriva veloce ti fermi perché ci avrai pure ragione ma l'incidente non lo vuoi fare allora questa qui è la cosa che ti porta a non rispondere alla principessa della Nigeria però ripeto stiamo a parlare della principessa della Nigeria quando ancora in autogrill c'è quello che gioca al gioco delle tre carte perché quello prima di me ha vinto la vedo come una battaglia veramente impari e difficile da vincere dovremmo instillare quel senso di diffidenza che oggi non c'è e mi ritrovo perfettamente nella statistica di Kaspersky che citava Arturo prima di una delle risposte che mi sento dare oggi è per quel che faccio io questa è in azienda quindi dove ci dovrebbe essere una persona esperta che prende le decisioni per quel che faccio io chi vuoi che mi attacchi cioè questo ragionamento non funzionava nel 2001 figurati oggi cioè finché non capiamo che tutte queste cose funzionano si grandi numeri lavorano su base statistica pensa al phishing io ricevo phishing di una banca dove non ho il conto e non sanno neanche qual è il mio saldo e sbagliamo anche a calcolare il rischio perché pensiamo che il rischio peggiore sia che ci svuotino il conto corrente io sono molto più preoccupato che facciano transitare milioni di euro sporchi per riciclarli dal mio conto corrente piuttosto che mi rubino i due soldi che c'ho sopra quindi non lo so secondo me abbiamo ancora tanta tanta strada da fare e si tratta sicuramente di creare momenti come questi come quelli che citava Arturo prima le tante conferenze qui con Flavia siamo andati e bisogna continuare ad andare nonostante il periodo evidentemente in questo momento ci costringa a queste situazioni un po' buffe quindi possiamo dire che l'hashtag è consapevolezza eh per forza perché su questo che poi questo non implica che visto che l'unico computer sicuro è quello spento senza batteria questo non è che abbiamo questa consapevolezza però non implica che non lo usiamo lo usiamo cercando di evitare perché guidando l'auto io sto prudentissima ma arriva un tizio ubriaco che mi viene con è il rischio c'è la macchina è uno strumento l'automobile è uno strumento pericolosissimo che scegliamo di utilizzare quotidianamente lo stesso allo stesso modo con il computer uno fa quel famoso bilanciamento esatto guarda sul bilanciamento torno perché ha dato un buon decalogo Arturo su quello dell'offuscamento io se vado sul sito dell'Inps ci scrivo Alessio Pennasilico se vado sul forum del giardinaggio io ci scrivo Mario Rossi che gliene frega loro come mi chiamo in generatore di identità fasulle online peraltro gli hanno nome cognome indirizzo codice fiscale tutto coerente precalcolato ma sì ma il forum del giardinaggio aggiungo che adesso c'è anche un sito che utilizzando degli algoritmi di intelligenza artificiale precursori di intelligenza artificiale crea dal nulla dei falsi veri veramente veri delle nostre facce quindi in realtà puoi anche sia immagine sia video entrambi i formati puoi anche barare sull'aspetto fisico voglio dire quindi perché l'anonimato rimane una cosa molto importante sia l'anonimato che lo pseudonimato lo dico perché penso ci stiamo salutando lo dico perché ogni tanto arriva qualcuno che pretende di cancellare l'anonimato per l'iscrizione o l'utilizzo di certi servizi online di certi servizi web l'anonimato è fondamentale per potersi esprimere liberamente per evitare appunto le ritorsioni e le rappresaglie che ci possono essere quando si ha un atteggiamento molto franco molto sincero e genuino confronto della realtà o quando si raccontano delle cose che qualcuno vorrebbe che tu tacessi pensate ai collaboratori di giustizia alle mogli alle figlie ai figli dei collaboratori di giustizia pensate alle persone vittime di violenza domestica pensate alle persone che hanno subito uno stupro e che cercano un confronto qualche volta un conforto nei gruppi telegram piuttosto che nei gruppi facebook insomma quello che vuole raccontare un episodio che gli è successo o magari il giornalista in erba il whistleblower che vuole raccontare il malaffare del suo territorio dell'azienda per cui lavora e così via quindi secondo me andrebbe anche rivalutato l'anonimato con cui ci approcciamo a questi servizi io non sono contento di fronte a qualsiasi tipo di ipotesi che vorrebbe identificarmi in maniera univoca quando uso un social network ad esempio mi rendo conto che è un problema gigantesco quello delle bufale quello che chiamiamo fake news mi rendo conto che l'arrassment online la violenza online late speech so che è un problema molto serio l'antisemitismo in rete il pregiudizio antiafricano anti-islamico anti-zingaro e così via anti-donne sì so che è un problema il sessismo insomma il fascismo il razzismo sono problemi agiti in rete sono un problema molto molto serio però io penso che siccome lo pseudo anonimo se commette un reato importante in 4-5-6 ore lo trovi anche le forze di polizia possono farlo ma gli esperti come noi ci mettono dalle 4 alle 6 ore più o meno a sapere dove abita l'autore di un reato online da pseudo anonimo io penso che bisognerebbe mantenere l'anonimato lo pseudonimato esattamente si chiama perché così uno può essere quello che si sente di essere in un certo momento può anche andare oltre la violenza subita in casa e diventare mentore di qualcun altro spiegargli raccontargli delle cose insegnargli quindi io ci terrei a mantenere questa cosa quindi preferirei più che si usassero delle tattiche di obfuscation in Italia è uscito anche un libro pubblicato da una piccola casa editrice da stampa alternativa adesso mi ricordo che è molto bello tra l'altro che insegna le tecniche per in qualche modo offuscare le tracce che inevitabilmente lasciamo quando siamo in rete e ovviamente questo significa anche il contrario perché se tu capisci che qualsiasi cosa fai online non è scritto con la matita ma è scritto con la penna cioè è destinato a rimanere da una parte dall'altra tutti i dati che produci vengono in qualche modo immagazzinati da qualche parte forse ti passa anche la voglia di agire sopra le righe di insultare una persona online di arrivare a un conflitto aperto e così via quindi vale in entrambi i casi vale per ridurre i conflitti vale per minimizzare il risultato dei conflitti vale per come miccia di consapevolezza prima dicevate che la awareness la consapevolezza è la prima cosa mi pare che come dire i due hashtag di questa sera sono igiene cibernetica da una parte e dall'altra consapevolezza e secondo me è importante ecco mantenere l'anonimato e sapere che anche da pseudo anonimo su twitter facebook eccetera se insulti o fai del male a qualcuno con un'aggressione verbale ad esempio la polizia ti può trovare ecco se la gente sapesse questo come se la gente sapesse che che guai a quali guai può andare incontro se non sta attento ai propri dati personali alla propria privacy online secondo me se riusciamo a fare questo passaggio le cose possono cambiare bene io farei chiudere da Flavia no no loro loro sono le persone giuste io direi un'altra pillola se c'è io l'aggiungerei una pilloletta anche su alcune abbiamo detto no no stavo stavo pensando che abbiamo abbiamo detto tutta una serie di cose sacrosante in merito all'uso degli strumenti forse io come ultima pillola lasciare qualcosa non tanto legato allo strumento ma legato alla persona che è quello di la necessità di informarsi conoscere come ci attaccano come ci frodano che cosa fanno per saper riconoscere gli attacchi e poterli disinnescare in questo caso porto sempre l'esempio della SEO fraud quella fraud per il quale da un indirizzo tipo gmail apparentemente legittimo mi scrive l'amministratore delegato della società dal suo indirizzo gmail dicendo guarda devi fare questo bonifico importantissimo non ne possiamo parlare a voce e via dicendo che è una mail che non contiene link non contiene legati non contiene virus non può essere fermata dal fire non può essere fermata dall'antivirus e se uno fa il bonifico ha fatto il bonifico appunto allora io ne farei un tema come abbiamo detto più volte nel corso della serata del è impensabile oggi vivere questo mondo senza avere idea dei quali sono i rischi di quali sono le minacce e del come affrontarli allora te ne dico una che adesso ti metto paura per davvero perché al di là dei problemi che possono avere i professionisti e le aziende i problemi che forse più ci interessano e più ci preoccupano sono quelli delle persone normali cioè sappiate che in posti come in Gambia Zambia Gabon Namibia altre ci sono delle fabbriche di fake per cui dove smontano i computer che noi non sappiamo riciclare nei nostri paesi li smontano li tolgono l'hard disk fanno ripartire l'hard disk e trovano tutti i riferimenti delle persone che hanno lasciato quei dati lì dentro non serve andare in India ho amici in Italia che lo fanno come oggi comprano su ebay computer e cellulari usati per vedere che cosa sta dentro trovi la rubrica dei contatti delle persone trovi spesso il numero di conto perché le persone quando buttano il computer vecchio si dimenticano di cancellare i dati sull'hard disk che già adesso non lo sanno fare ancora una volta già buttare nel cestino non sarebbe sufficiente però è già qualcosa ma le persone che si vanno a comprare un computer nuovo uno smartphone nuovo raramente ripuliscono dai dati contenuti gli apparecchi vecchi quindi questi vanno a finire nelle discariche africane dove ci sono stormi di ragazzini che li vanno a recuperare li rompono per riutilizzare i materiali che possono riciclare ma soprattutto ne estraggono le memorie ne estraggono le memorie le portano in queste factories che sono dei veri e propri luoghi di lavoro dove ci sono eserci sono squadre di 50-60 persone che setacciano i dati all'interno dei vecchi hard disk delle vecchie memorie di massa per vedere se c'è del materiale utile per realizzare delle truffe ai danni dei nominativi che ci trovano dentro ecco perciò l'ultima pillola è quando cambiate computer cancellate tutto e se potete temetevelo a quello che non siete sicuri che lo distrutte fatelo cancellare da un amico informatico che sa cosa sta facendo perché anche la cancellazione fatta male è reversibile sul cancellare infatti andrebbe poi andrebbe aperto un capitolo a parte anche perché è qualcosa di cui si parla si parla pochissimo o non se ne parla mai ho un amico statunitense che procede a distruzione fisica sapete che lo stereotipo vuole che siano un po' esagerati gli statunitensi lui ha una desert eagle una pistola con la quale spara fisicamente all'hard disk o al telefono un po' forte ci sono detto una funzione legale trapano un banale trapano un banale trapano su questo chiuderei ringrazio tutti ringrazio Flavio Marzano adesso ci sono a voi e speriamo di aver dato un piccolo contributo alla razza di questa giornata grazie a te per l'indica bella questa conversazione tra amici ci voleva la rifacciamo prima o poi attento ciao Alessio ciao Flavia ciao Roberto grazie di tutto buona serata buonanotte a tutti